Buonasera telespettatori di ETV, benvenuti, continua la campagna elettorale, noi continuiamo ovviamente a seguire quelli che sono tutti gli eventi anche nella città di Bologna e della sua provincia, il passaggio dei leader nazionali, ormai di fatto domani sera stiamo completando il giro tecnicamente anche con quelli nazionali, domani sera ci sarà Bersani a Bologna nel suo tour, Bersani che come sapete non chiude la campagna elettorale a Bologna ma di fatto domani il suo passaggio più importante. Allora saluto e ringrazio il segretario del periodo democratico di Bologna e provincia, eccolo qui Raffaele Donini, buonasera e benvenuto Buonasera direttore, un saluto a quanti ci stanno vedendo. Allora Donini, se la Lega Nord ieri mattina ha fatto il blitz all'ospedale maggiore, lei invece era sull'autobus a parlare con i cittadini, ecco, è un modo diverso di approcciare la campagna elettorale? Sì, intanto noi non abbiamo fatto questo spettacolo orrendo che ha fatto la Lega Nord e che è stato di imbarazzo persino per la coalizione di cui fa parte la Lega, del PDL, cioè questo messaggio sempre che sfiora addirittura diciamo situazioni per noi inaccettabili che non vanno dette per carità di patria. Uno spettacolo davvero orrendo che ha messo in piedi l'ospedale maggiore anche perché ha offerto una caricatura del nostro sistema sanitario che ha dei problemi sicuramente ma che è uno dei più efficienti in Italia. Noi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo spiegato le nostre proposte ai cittadini salendo e scendendo dagli autobus, non si può fare volantinaggio negli autobus. Quindi avete incontrato le persone? Lo abbiamo fatto alle fermate però siamo saliti sugli autobus, abbiamo parlato con molti cittadini alcuni dei quali anche indecisi e credo che sia stata un'occasione importante per dialogare, per confrontarci e anche per esprimere quello che è il nostro pensiero, le nostre proposte soprattutto sui temi del lavoro, della moralità pubblica, della soberanità, della politica che interessano molto i cittadini. Senta, la campagna elettorale ha trovato persone preparate, che hanno voglia comunque di confrontarsi col voto oppure c'è ancora quell'atmosfera, quel sentimento di scoraggiamento, di delusione nei confronti del mondo politico? No, c'è di tutto, nel senso che ci sono sicuramente coloro che hanno già deciso per chi votare e coloro che invece sono ancora indecisi anche perché continuano a coltivare questo sentimento di sfiducia nei confronti della politica. Però noi abbiamo fatto comprendere, almeno i nostri interlocutori di ieri, che noi siamo l'unica formazione politica, il PD, che ha ceduto realmente sovranità ai cittadini perché il nostro candidato premier è stato eletto con i voti dei cittadini e le primarie, abbiamo contrastato questa orribile legge elettorale del Porcellum facendo noi le primarie per i parlamentari, quelle vere, quelle fatte con migliaia di cittadini che hanno votato, abbiamo proposte per la crescita e soprattutto per la giustizia sociale perché oggi in Italia ci sono molte più ingiustizie di quante ce ne fossero vent'anni fa, pensiamo ai redditi, pensiamo al peso fiscale, noi non promettiamo di restituire soldi in contanti, non vogliamo trasformare gli italiani nelle olgettine, noi pensiamo di dover ridurre il carico fiscale sul lavoro, sulle famiglie a basso reddito e sulle imprese, però intanto intensificando la lotta all'evasione fiscale e colpendo magari un pochino più la rendita finanziaria di quanto sia l'economia reale. D'altra parte o si fa così oppure altri modi per ridurre il peso fiscale sono modi che in passato ci hanno condotto al dissesto dei conti pubblici. Allora domani sera diciamo Bersani, intanto la scelta Bersani domani venerdì 15 e poi in realtà a chiudere la campagna elettorale a Bologna sarà Renzi, è confermata intanto rappresentante di Renzi il 22. Saranno Merola, Renzi ed Errani che il 22 alle 18 saranno nostri ospiti all'Arena del Sole, domani però ci sarà l'evento clou, diciamo avremo il nostro candidato premier Pierluigi Bersani alle ore 20 e 30 in Sala Europa Auditorium in zona fiera, so che ci sarà tantissima gente quindi... E' vero che arrivano quei pullman per seguire... Sarà sicuramente da parte del territorio provinciale anche una mobilitazione in tal senso, d'altra parte Bersani a Bologna è sempre stato accolto non solo da tanto sostegno ma anche da tantissimo affetto e anche domani non ci smentiremo, saremo in tanti e faremo una bella festa di popolo anche con delle sorprese. Ecco intanto la prima che è stata svelata quest'oggi è Massimo Ghini, l'attore Massimo Ghini che sarà presente e mi ricordava anche lei prima di iniziare l'intervista, Massimo Ghini è il vostro responsabile cultura nel Lazio come PD, giusto? Sì, Massimo Ghini è un attore straordinario in tutte le parti che ha recitato... E' anche un nostro dirigente, è sicuramente una delle persone appassionate al linguaggio e ai temi di governo di una sinistra riformista, democratica, progressista. Per la verità Massimo Ghini sarà con noi anche dal pomeriggio perché lo andremo a prendere in camper, col camper del PD alla stazione centrale di Bologna, poi faremo delle iniziative con lui e andremo anche a Savena e poi arriveremo in camper all'Europa Auditorium. Quindi col camper state girando e girerete la provincia? Da domani, da domattina presto, alle 8 saremo davanti alla mandarina DAC e poi in piazzola e poi nei mercati, davanti alle aziende, davanti alle scuole, davanti alle fabbriche. genereremo praticamente H24, non ci fermeremo mai perché pensiamo che questa ultima settimana debba essere spesa assolutamente per parlare con i cittadini, anche a rischio di prenderci qualche sfogo perché ovviamente noi siamo convinti delle nostre idee però dobbiamo saper trattare anche quel sentimento di sfiducia che comunque c'è ancora e noi dobbiamo dire a quelli più sfiduciati che guardano con terrore l'idea che possa Berlusconi tornare al governo di questo paese che noi siamo gli unici ad avere il fisico e le carte in regola per poterlo fermare. Senza Donini, parlava domani sera di possibili sorprese, nel senso sullo spettacolo, restituirete anche voi qualcosa ai bolognesi? Ripeto, non trattiamo i cittadini né quelli bolognesi né quelli italiani come le olgettine quindi possiamo promettere restituzioni incontanti, possiamo promettere serietà quando il centro-sinistra ha governato in Italia, ha abbassato la spesa pubblica, ha ridotto il deficit, ha centrato l'obiettivo dell'euro e ha fatto il risanamento dei conti pubblici e anche qualche piccola operazione di liberalizzazione e di crescita quando hanno governato gli altri hanno fatto il disastro allora un conto è saper fare campagna elettorale, Berlusconi lo sa far benissimo però tende diciamo a trasformare i cittadini in consumatori noi vogliamo un rapporto paritario con i cittadini con la stessa onestà intellettuale e politica con cui abbiamo ceduto sovranità ai cittadini lasciando a loro scegliere il nostro candidato premier anche i nostri candidati in Parlamento con quella stessa onestà intellettuale chiediamo fiducia ai cittadini perché siamo gli unici ad avere anche in Europa un credito e una credibilità per portare l'Italia fuori dalla crisi bene, grazie al segretario provinciale del PD Raffaele Tonini grazie a voi, arrivederci